L'amanita falloides può essere considerata il fungo più pericoloso d'Europa. Causa infatti il maggior numero di decessi per avvelenamento in Europa. Con l'amanita falloides non si può scherzare, basta mangiarne pochi grammi per finire male. Il suo veleno è inattaccabile se cucinata, inattaccabile se congelata, inattaccabile se essiccata, praticamente non muore mai. L'amanita falloides si riconosce per il suo colore verdastro che appartiene praticamente solo a lei. Quando vedete un fungo la cui testa presenta questo verdognolo dovete starne lontani. Il verde caratteristico della amanita è molto acceso quando è ancora piccola e chiusa. Tende a virare verso un verde più scuro o addirittura a un marroncino quando il fungo è adulto. Dovete stare molto attenti quando raccogliete funghi a non mettere mai l'amanita falloides assieme ai funghi buoni. Perché basta che se ne stacchi un pezzetto e finisca nel piatto e è un problema molto serio. L'amanita falloides ha un profumo lievemente fungino e è caratterizzata da un ovetto che si trova alla base del suo gambo. Questo ovetto non se ne va mai e permane anche quando l'amanita è adulta. Questo ovetto è peculiare e caratteristico di tutte le amanite. Quando si raccolgono i funghi devono essere raccolti sempre con il gambo intero, quindi scavati fino a fondo. Quando vedete che un fungo ha alla base del suo gambo un ovetto, se non siete davvero esperti di funghi, non raccoglietelo mai. L'amanita falloides ha un gambo molto dritto, molto eretto e molto duro. Ha il cappello piatto e delle lamelle bianche candide ben ordinate. Il gambo è attaccato al cappello in modo molto netto con una leggera incurvatura verso l'interno. L'amanita falloides è un fungo molto bello ma anche molto pericoloso. Io la chiamo la principessa della morte perché purtroppo non lascia appello. Il riconoscimento dell'amanita falloides dovrebbe far parte dei programmi scolastici di ogni ordine e grado. È infatti conoscendola bene a fondo che si può evitare di raccoglierla oppure di consumarla da amici finita casualmente nella cesta. Anche se è pericolosa, se la troviamo nel bosco non dobbiamo distruggere, non dobbiamo mai distruggere nessun fungo perché i funghi sono patrimonio del bosco e nutrimento per gli animali, anche quelli velenosi. L'amanita falloides cresce un po' dappertutto e durante tutta la stagione dei funghi. Se la trovate salutatela con rispetto ma non raccoglietela né distruggetela. Mio padre era molto esperto di funghi e da bambino lo accompagnavo sempre a cercarli. Grazie a lui l'amanita falloides è il primo fungo che ho imparato a riconoscere. Buona conoscenza dei funghi a tutti. Arrivederci.